Turni di lavoro sospesi nelle aziende e frutteti e campi di ortaggi devastati dai temporali che si sono abbattuti anche sull'Abruzzo. A San Salvo il sindaco Tiziana Magnacca lamenta i danni subiti nel territorio comunale, in particolar modo nel comparto dell'agricoltura. I danni più importanti li ha subiti l'agricoltura san salvese che genera un'economia del territorio molto importante, per cui i frutteti di cui noi siamo orgogliosi di poter vivere sono stati fortemente danneggiati, così come gli ortaggi. Considerate che sui terreni c'erano 20-30 cm di acqua, quindi immaginate gli ortaggi che fine abbiano potuto fare. E anche l'industria, ahimè, ha subito dei danni. Le più grandi industrie, le multinazionali che abbiamo a San Salvo tra la Cula e Pilkington, ha dovuto addirittura fare un fermo di produzione per via degli allagamenti. Soprattutto nella zona della marina abbiamo avuto danni molto ingenti. Gli stabilimenti balneari sono stati toccati moltissimo da questo maltempo, quindi ombrelloni rotti, sdraio scaraventato, addirittura il vento ha alzato i pattini che si sono scaraventati contro l'esdraio e gli ombrelloni. Poi ci sono stati moltissimi allagamenti in quella zona. Tutto questo chiaramente ci ha scosso, ma siamo intervenuti prestissimo, anche sotto la grandine, per cercare di rimuovere le situazioni di pericolo. E so che i balinatori si sono già attivati per ripristinare le condizioni di normalità nel più breve tempo possibile. Quindi questo vuole essere anche un messaggio a tutti i turisti che intendono trascorrere le proprie vacanze a San Salvo di non preoccuparsi. la situazione tornerà davvero nella normalità.